Noi abbiamo invitato oggi ai microfoni di By Night Roma un grandissimo esperto proprio per fare un grandissimo piacere ai nostri ascoltatori. Parlo del dottor Claudio Rosco, angiologo. Benvenuto dottore. Buonasera. Allora innanzitutto come nasce la sua passione per l'angiologia? Bellissima domanda. Io ho fatto una vita da ospedaliero, da anestesista rianimatore, 33 anni di ospedale San Giovanni. Però negli anni ottanta cominciai a sentire l'esigenza di avere anche un altro tipo di rapporto con i pazienti, più personale, meno drammatico direi anche. Mi interessava la patologia vascolare e quindi portai avanti un discorso che poi ho sviluppato soltanto nel privato di angiologia dapprima specializzandomi anche in angiologia e perfezionandomi poi nella flebologia che sarebbe la branca che studia la patologia delle vene. E così piano piano mi sono trovato nell'ottantacinque, ottantasei a fondare insieme ad altri la società italiana di flebologia nella quale sono ancora oggi e faccio lì il segretario del consiglio direttivo. Per me è una passione, è la passione della mia vita. E beh certo e quindi è molto fortunato perché di solito si dice che chi ha che fa come della propria passione e il proprio lavoro è felice. Sì è così. Quindi sicuramente che poi vista la sua grandissima esperienza, secondo lei quanta malinformazione c'è all'interno comunque del suo campo? Quante magari false notizie vengono date? Purtroppo tante perché purtroppo oggi la distorsione commerciale porta ad adattare tutto. Prenderei quasi spunto dal titolo che abbiamo dato a questa piccola intervista di inestetismi vascolari per dire che la mia opinione è che questa questa dizione è sbagliata perché in estetismo ci fa pensare ed è una percezione emozionale nella quale noi percepiamo una disarmonia. Da questo punto di vista si inquadrerebbe nella medicina e la chirurgia estetica che sono tutt'altra cosa da quella curativa delle malattie. In medicina e chirurgia estetica c'è l'obbligo del risultato viene applicata l'IVA, non è fiscalmente deducibile. La medicina e chirurgia curativa invece hanno altre caratteristiche. Ora quando c'è qualcosa di vascolare che si vede all'esterno questo non è un inestetismo, questa è una manifestazione visibile di una malattia. L'antonomasia di questo è l'interpretazione del capillare o della telangiectasia come un inestetismo. Purtroppo no, il capillare o della telangiectasia è la manifestazione della malattia varicosa che si può esternare in molti modi, anche senza varici, solo con l'edema oppure con una safena abnormemente dilatata. Le microvarici, le telangiectasie sono patologia. quindi questa è disinformazione. La donna che ha una telangiectasia non deve pensare che ha un inestetismo come una pelle seborroica o come un naso non gradevole eccetera. Purtroppo c'è un problema. è un problema anche un po' più grave che comunque bisogna... non drammatizzerei. Purtroppo è un problema legato molto al sesso femminile e poi all'uomo erectus, perché ci sono due grandi patologie uscite fuori dal fatto che l'uomo da quattro mani è diventato a due piedi. Si è alzato in piedi, quindi è aumentata la pressione agli arti inferiori e chi ha le vene più deboli ne subisce le conseguenze. Quindi in realtà sarebbe anche normale magari trovarsi alcune problematiche, arrivate soprattutto ad una certa età? Assolutamente sì, perché nella selezione naturale l'insufficienza venosa di chi non sapeva resistere a una pressione maggiore non è stato un elemento di selezione naturale. Quindi ce lo portiamo avanti geneticamente come a tutti i noti. Anche la colonna vertebrale ha questa sfortuna. La nostra colonna vertebrale era stata costruita per lavorare orizzontalmente. Poi noi ci siamo messi in piedi, l'abbiamo caricata di pesi anomali e quasi tutti hanno problemi alla colonna. Vero, questo è molto vero. Quindi dato per assodato che comunque parlare di inestetismi cutanei vascolari non è corretto, quindi quale sarebbe il termine più giusto? Di patologia visibile. Come la psoriasi può essere una patologia visibile. Appunto, quali sono queste patologie visibili? Ma guardi, il campo è estremamente vasto. Magari quelle più frequente? Certo, possiamo andare dall'angioma piano classico, che è una malformazione vascolare che può essere anche evolutiva, al più semplice, più frequente più che altro, il reperto di patologia varicosa, cioè delle varici. Una condizione in cui la parete delle vene diventa incapace a resistere alla pressione, infatti prevalentemente sono agli arti inferiori, si dilatano e in questo dilatarsi, quando arrivano a una superficialità particolare, diventano visibili. E' questo che generalmente richiama l'attenzione del paziente, quando non lo sono invece i disturbi soggettivi, la pesantezza, l'edema, il gonfiore, la stanchezza, i formicoli. La donna in questo purtroppo è penalizzata, perché purtroppo ha un'impalcatura del derma e del sottocute diversa da quello dell'uomo, dei dicellulite, eccetera. E poi la donna ha purtroppo gli estrogeni, o per fortuna ha gli estrogeni, però questo è un risvolto negativo degli estrogeni e anche un po' del progesterone, cioè di sensibilizzare l'avena alla dilatazione, di renderla più facilmente infiammabile. Ma che cosa si può fare però quando ci sono queste problematiche? Ecco, qui c'è un po' un avanzamento delle cose, un flebologia 2.0 di serie. In passato l'approccio alle vene varicose è stato sempre un approccio distruttivo. Cioè, uno si presentava con una varice, il problema era come distruggergliela. Chirurgicamente, con una iniezione che facesse sparire questa varice perché la trasforma da un tubo in un nastro saldato. Quindi si distruggeva. Più varici, più distruzione. Negli ultimi anni, cominciato un po' dieci anni fa, ma insomma adesso si comincia a diffondere, con studi maggiori si è approfondito il fatto che l'avarice è innanzitutto un organo infiammato, sede di una infiammazione. E questa infiammazione è quel momento che blocca la capacità della parete stessa di rigenerarsi, che la sfalda progressivamente. L'infiammazione e l'ipertensione venosa sono diventati oggi conosciuti i due meccanismi che creano e fanno evolvere la malattia. Questo ha portato a che parallelamente si siano sviluppate quindi delle possibilità terapeutiche che prima non c'erano. La scleroterapia che tutti conoscono prima era soltanto obliterativa, cioè chiudeva solo le vene. Oggi invece c'è anche una forma di scleroterapia che non chiude le vene, ma che cura e ispessisce le pareti fortificandole e in questo modo anche ottenendo l'effetto di non renderle più visibili all'esterno. Io ho preparato un piccolo schema per sottolineare questo perché è molto importante che si sappia che oggi ci sono nuove metodiche. La scleroterapia classica si fa in forma liquida o in schiuma come molti sanno, ma le scleroterapie conservative possono essere la TRAP, che è la 3-Dimensional Reconstructive Ambulatory Fleboterapy, cioè la terapia ambulatoriale rigenerativa, oppure la ESEC, che è l'ecosclerosi ecoguidata. Sono tutte e due metodiche che non chiudono la vena, ma che rinforzano la parete. E' bene che le persone sappiano che ci sono queste possibilità oggi. TRAP e ESEC sono due metodiche valide. Ovviamente sta alla capacità del medico saper dare la giusta indicazione anche in funzione delle sue capacità, perché non è che tutti sanno fare la cosa più adatta per quel paziente. La famosa iniezioncina di sclerosante la fanno tutti, ma non è detto che sia la cosa più opportuna per quella paziente o per quel paziente. Quindi molto varia anche ovviamente dal paziente che si ha di fronte. Assolutamente. Poi mi stava dicendo un'altra cosa molto importante, che oggigiorno assistiamo sempre di più ad una demedicalizzazione. Cioè in realtà si parla di medicalizzazione, invece in realtà non è così. È un po' un ossigoro. Assistiamo un pochino a questo assurdo, che da una parte si medicalizza tutto. Qualunque cosa viene medicalizzata con ovvi risvolti, mi permetta, commerciali. Dall'altra però, proprio nel caso di cui stavamo trattando, come ad esempio le teleangiectasie, si tende a considerarlo un inestetismo come potrebbe essere avere un naso poco gradevole o una pelle che per sua conformazione è più spessa, meno morbida. Questi sono inestetismi. Questo secondo me però perché manca veramente spesso la conoscenza. Magari tante persone si affidano sempre di più a internet per curarsi da sole e non hanno più la voglia di andare dall'esperto, dalla persona competente. La ringrazio molto perché bisogna sfatare l'assurdo che l'informazione corrisponde alla cultura. L'informazione è una cosa, la cultura è un'altra. E molto raramente le due cose coincidono. L'informazione molto spesso è indirizzata da interessi. La cultura sta lì, te la vai a leggere e apprendi. Poi i risvolti commerciali sono un'altra cosa. Mentre oggi si parte da un'informazione, un'informazione non verificabile perché chiunque può scrivere quello che vuole e quindi potenziata dai mi piace per cui se ci sono tanti mi piace sembra che quella cosa sia più vera. Sia credibile, invece non è vero. Non è vero. Quindi è giusto informarsi su internet, lo facciamo tutti io stesso però poi su certe cose bisogna approfondire. O se ne ha la capacità oppure bisogna trovare come in tutto la persona che ha competenza e quindi cultura di quella materia che sappia consigliarci ciò che serve per noi e non per lui. E quindi io ricordo che ai nostri microfoni abbiamo avuto il dottor Claudio Rosco e devo dire angiologo e quindi più competente di lui, cari ascoltatori, non ce n'è. Quindi se avete problematiche riguardanti il suo campo lo possiamo contattare. Io volevo far vedere, volevo darvi i suoi contatti e parallelamente farvi vedere anche questo fantastico schemino che ci ha fatto. Allora ricordo il suo numero di cellulare che è 347-333-5629. Il suo studio si trova in via Acqua Donzella numero 27 in zona Cogli Albani. Ricordiamo poi anche che è possibile reperirlo tramite www.dottori.it e poi c'è anche l'indirizzo email claudiorosco.gmail.com Ma una cosa che ci tenevo anche a precisare è che il dottore fa parte anche del registro italiano dei flebologi e poi anche del SIF, ovvero della società italiana di flebologia. Quindi questo è molto importante, è giusto comunque dare un riconoscimento alle persone competenti e alle persone professionali. Io ricordo che questo era il dottor Claudio Rosco, angiologo, che è stato ospite qui con noi. Grazie ancora. Un piacere per me essere stati con voi. E questo è Benheit Roma, solo il top della capitale. Grazie a tutti.